Per la scuola pubblica arrivano le proposte di rifondazione comunista, di cosa si tratta? Noi chiediamo che si torni alla didattica in presenza, perché la DAD è stato un esperimento emergenziale e il Ministero della Pubblica Istituzione dice che 500 mila studenti, mezzo milione di studenti, sono stati esclusi da questo tipo di didattica. Per tornare alla didattica in presenza occorrono forti investimenti sulla scuola pubblica e noi diciamo che i soldi ci sono. Bisogna stabilizzare gli insegnanti, fare le missioni in ruolo sia del personale insegnante che del personale ATA, bisogna garantire la sicurezza studenti e personale, quindi almeno 3 metri quadri di spazio per ogni studente e questo vuol dire investire sulle strutture, vuol dire reperire le strutture e mettere in sicurezza quelle esistenti. Quindi il problema dell'istruzione pubblica è un problema che va al di là dell'emergenza coronavirus perché la situazione della scuola era grave già prima dell'emergenza sanitaria. Nel corso degli ultimi 10 anni noi abbiamo continuato con Italia la pubblica istruzione, riducendo il numero di insegnanti e aumentando il numero di alunni per classe. È una vera e propria emergenza, un patrimonio edilizio scolastico vetusto. E quindi bisogna invertire questa tendenza, non è il coronavirus che porta i problemi. Il coronavirus è la cartina di tornasole di problemi già esistenti. La scuola è un pilastro della Costituzione, bisogna investire sulla scuola.